Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi un'altra puntata di Gio alla scoperta di, ma questa volta non parlerà di un autore, bensì di un libro. Sappiamo che ci sono degli errori, il problema è che, appunto, avendo problemi di editing, scusate, balla tutto, non ho modo di stare lì proprio a tagliare il pezzettino preciso, e vabbè, quindi fate finta di niente, sapete che le biglianate le deve sparare sempre, e godetevi la recensione. Ciao a tutti, questa volta non mi occuperò di un autore come sono solito fare. Vi parlerò di un libro che ho letto ultimamente, che mi è piaciuto moltissimo, e quindi ho deciso di dedicare questo video recensione, appunto, a questo libro. Il romanzo di cui vi parlerò è Patria di Fernando Ramburo. Un romanzo, come vedete, bello tosto, perché sono 640 pagine, grossomodo, ma è un romanzo che, nonostante la mole, si divora alla vera città della luce. È un romanzo veramente avvincente. È un romanzo corale, prima di tutto. Qualcuno in Spagna, paese d'origine, l'ha definito come una sorta di guerra e pace iberico. Diciamo che probabilmente il paragone è un po' azzardato, però serve comunque a far capire della tipologia di romanzo con cui abbiamo a che fare. In Spagna, ripeto, è stato un successo straordinario, è arrivato alla ventesima ristampa, sta raggiungendo almeno il migliore di coppie. È un romanzo che rimane dentro perché, oltre ad essere molto vincente, parla di un periodo storico molto complesso. Il periodo, diciamo, di qualche anno fa, tra gli anni Ottanta e la fine del secolo scorso, in cui la Spagna avviene un periodo veramente difficile, gli attentati dell'ETA, il separatismo basco e tutte le conseguenze. È uno scontro epocale. Il romanzo, appunto, narra la storia di due famiglie. Due famiglie che vengono identificate con i due capi famiglia, la famiglia di Yoxian, e quella del Xato, o Xato, non so come si pronuncia. Hanno sposato due amiche che, addirittura, avevano pensato, prima di incontrarli, di farsi suore assieme, che si chiamano Miren e Bittori. La famiglia di Yoxian e Miren hanno tre figli, mentre lo Xato e Bittori hanno due figli. E qui, nonostante le due famiglie siano in stretti rapporti di amicizia, un bel giorno il dilagare dell'ETA, questa spaccatura, crea una sorta di conflitto a queste due famiglie, in quanto il Xato, che era un'impresa di trasporti, un personaggio di rilievo ricco, inizia ad essere accusato di essere un oppressore del popolo, di essere un capitalista, di essere uno che vive sulle spalle dei propri operai, e inizia a subire delle minacce dall'ETA. Quando si rifiuta di pagare, un bel giorno inizia ad essere messo quasi al bando della comunità, e anche quelli che erano i suoi amici, tra cui gli Yoxian, non gli rivolgono più la parola. A un certo punto, cosa accade? Lo Xato verrà ucciso in un attentato dell'ETA. Ecco, che dire, conflitto tra vittime e carnefici. Qui abbiamo la vittima, il Xato, mentre Yoxemari, il maggiore dei tre figli di Yoxan e di Miren, fa parte dell'ETA ed è un assassino. Ecco, non diciamo se sarà cosa accadrà, se si scoprerà che è stato lui uccidere lo Xato o meno. Diciamo solo che questo romanzo, da un certo punto di vista, è una cronaca di fatti, eventi storici, molto ben documentata. D'altro punto di vista, è una storia di persone, è una storia di due famiglie. E quindi, se da un lato c'è spazio ai sentimenti, senza che questo romanzo diventi patetico o sentimentale, dall'altro punto di vista è un romanzo che parla di politica, ma senza scadere, senza trasformarsi per forza in un romanzo politico. Quindi quello che lascia per play stupiti di questo romanzo è questa perfetta amalgama tra sentimenti e storia politica di un paese che ha vissuto sulla sua pelle gli anni di violenze perpetrate, di attentati. Il modello di racconto è molto particolare, in quanto non è un racconto lineare che procede in un continuum temporale. Qui abbiamo a che fare con consomente degli sbalzi temporali. Si va avanti in diretto del tempo e all'inizio magari può destare un po' di confusione questo alternarsi di vicende di oggi, ieri e di domani, ma vi garantisco che è tutto congegnato e tutto predisposto come fossero pezzi di un riuscitissimo puzzle affinché alla fine il quadro, l'insieme, venga ricomposto ed abbia questo significato importante che l'autore, questo Aramburu, che non conoscevo, è riuscito a dare. Cosa è importante alla fine? Che abbiamo da un lato vittime carnetici, abbiamo le violenze perpetrate dall'ETA, e dagli indipendentisti baschi, ma abbiamo anche le violenze dello stesso Stato che spesso corre con la sua polizia, con l'esercito a delle misure davvero crudele nei confronti dei terroristi. Alla fine chi destra maggiore compassione alla fine è proprio il popolo basco, un popolo che ha sofferto questa situazione che per colpa di un manipolo di scalmanati, di pazzi che hanno percorso la strada e l'assassigno politico sistematico ha subito sulla propria pelle questo atroce dolore di sentirsi quasi messo da parte da quello che è il resto della Spagna. Che dire, la cosa importante in questo romanzo, un altro dettaglio che non va trascurato è proprio il linguaggio, perché il linguaggio, nonostante tratti argomenti alti, è un linguaggio molto semplice, non dico elementare, ma spesso nei dialoghi viene espressa proprio la voce del popolo, ci sono anche errori di coniugazione dei verbi che vengono ritradotti in italiano, proprio per riprodurre esattamente quello che è il linguaggio della popolazione. Ma inoltre la traduzione italiana ha inserito e ha mantenuto quelli che sono dei vocaboli tipici della lingua basca e li ha lasciati così come erano nell'edizione originale. Appunto è stato predisposto però un glossario di una ventina di pagine alla fine del romanzo in modo tale che quando si incontra una parola di cui non sappiamo il significato, corriamo subito e tentiamo di capire cosa vuol dire. Che dire è importante? Un altro elemento che mi è venuto in mente è la storia delle famiglie. Abbiamo detto di queste due famiglie, quella di Oxiane e Miren e quella di Sato e Bittori, che sono le due famiglie proterogoniste. Diciamo subito, i Oxiane e Miren hanno tre figli molto diversi tra loro, perché i Oxiane e Mairi è quello che diventerà il terrorista. Aansha è la figlia che per un ictus rimane paralizzata sulla sedia a rotelle. Il terzo figlio è un figlio un po' fuori dalla norma, vuole fare lo strittore e più tardi rivelerà la propria omosessualità. Dall'altro punto di vista abbiamo i due figli dello Stato, Bittori, e Bittori che sono Xavier che fa il medico e Nerea che è una donna che non ha mai trovato pace con se stessa. La cosa importante è che se andiamo a vedere fino in fondo le vicende di questi personaggi vengono raccontate con una sorta di narrazione che rimanda un po' al melò. Infatti, non so, leggendo la storia di queste persone, perché, ripetiamo, sia i capi famiglia che i figli, per ognuno di essi viene lasciato un certo spazio, ogni personaggio ha il suo spazio e viene descritto compiutamente nelle pagine che gli vengono dedicate. Diciamo che mi è venuto in mente Almodovar, non so perché, perché proprio queste vicende, il terrorista, la donna paralizzata, il medico che non ha trovato la donna nella sua vita, sono tutte vicende che potrebbero essere raccontate in un film di Pedro Almodovar, che però, in questa situazione, vengono sapientemente miscelate a quella che è la vicenda di fondo, a questa trama, a questo plot che ha origini politiche, in modo tale da innestare questa vicenda familiare in una storia che è importante, perché ci racconta la fine del Novecento in un paese come la Spagna che è stata dilaniata da una quasi, tra virgolette, guerra civile. Che dire d'altro? È un romanzo che ho divorato, nonostante l'amore, in pochi giorni, un romanzo che Meli è testimone, ho concluso l'ultimo giorno con le lacrime agli occhi, proprio perché, per l'impeto, la passione, ma perché fa vivere in prima persona delle emozioni davvero importanti. È un libro che vi consiglio, se volete leggere un libro, che vi lasci qualcosa dentro, che vi racconta la storia di un paese, che vi racconta la storia di una famiglia, anzi, di due famiglie, prima amiche e poi dilagnate da questi conflitti, specialmente dopo la morte dell'Oxato, la moglie se ne va, per anni queste due famiglie interrompono del tutto i rapporti. Diciamo, questo è il vostro libro. È un romanzo che rimane dentro e cosa dire? Quando un romanzo ti colpisce così a fondo, ne devi parlare. E possibilmente che fare? Fanno un video su YouTube e mostrarlo a coloro che vorranno trarne le conseguenze. Ciao a tutti, spero di non essermi dilungato troppo. Buona serata.